Giuseppe Mandras, direttore di gara oggi della gara di Padro. Giuseppe, com'è andata la gara? Andata benino, diciamo. La pista era in buone condizioni, è stata sistemata, secondo me, nel migliore dei modi. I piloti erano tantissimi, erano numerosi, molto agguerriti. È stata una bellissima gara, secondo me. Giuseppe, ti aspettavi tutta questa affluenza di piloti? Noi ci speravamo, in effetti il motoclub ci sperava, io come direttore di gara speravo che ci sono molti piloti perché l'esperienza è più interessante, ovviamente. Quando ci sono molti piloti devi farti valere un po' di più, però la pista era a posto, la giornata era bellissima. Siamo riusciti a rispettare i tempi dopo una piccola difficoltà iniziale e abbiamo recuperato il ritardo, abbiamo finito addirittura forse puntuali. Però sono contentissimo perché la pista era perfetta. Tutto sommato, a parte la caduta di Silverio Fresi con un altro pilota? Sì, ci sono stati un paio di incidenti, per fortuna con conseguenze non gravi, ci hanno fatto un po' preoccupare. Infatti per l'incidente di Silverio Fresi abbiamo preferito sospendere la gara, interrompere la gara, mancava solo un giro e mezzo tra l'altro quindi i giochi erano fatti, andava bene così e abbiamo permesso alle persone di gara, al medico, di intervenire e è finito tutto in sicurezza. Va bene così, sarebbe meglio che non succedessero queste cose, soprattutto per i piloti perché loro sono i protagonisti, sono i più importanti.